Quando è utile una supplementazione di glutamina? La glutamina viene utilizzata principalmente per il recupero fisico e la regolazione della neoglucogenesi. Una ricerca del 1995 ha messo in luce come l'utilizzo di 2 grammi di glutamina post allenamento sia in grado di migliorare la risposta di ormone della crescita. Tale azione si riscontra anche in una sua supplementazione serale precoricamento. E' bene evidenziare, come in quest'ultimo caso, la secrezione di ormone della crescita è naturalmente favorita dai ritmi circadiani, con picchi principalmente notturni. I dosaggi di glutamina vanno dai 3 ai 6 grammi giornalieri, sebbene molte ricerche utilizzano dosaggi nettamente superiori, vicini ai 20 grammi al giorno. L'introduzione orale di glutamina è stato dimostrato essere scarsamente biodisponibile, in quanto captata per la maggior parte dalle cellule intestinali e dalle cellule del sistema immunitario. In tal senso la supplementazione di glutamina peptide ricavata da un'immunità dal glutine del grano sembra maggiormente biodisponibile.